Ridendo e scherzando, la cultura anime si sta allargando a macchia d'olio. Anche nel nostro paese, i servizi streaming più grossi stanno investendo molto per far arrivare queste serie animate straniere in Italia. E Amazon non è da meno. Infatti, se ci avete fatto caso, il catalogo anime di Prime Video è cresciuto a vista d'occhio nell'ultimo anno. Ma tra tutti quegli anime, è difficile scegliere quale vedere e seguire. Ed è qui che arrivo io, dato che in questo video vi consiglierò 5 anime da non perdere e che potete vedere legalmente su Prime Video in altissima qualità. Premessa, gli anime che inserirò in questa lista sono quelli che ho visto e che penso siano consigliabili. E se non c'è il vostro preferito, o è perché non l'ho ancora visto, o non vi è piaciuto. Ma direi di non perdere altro tempo e iniziamo subito. Gente, vi ricordo che se mi va di supportare il video e il canale, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. A voi non cambia nulla, ma a me darete una grossa mano. Vi ringrazio. Dalmachi rispecchia perfettamente la semplicità degli anime. Mi spiego meglio. Se volete staccare un po', dopo aver visto qualche serie animato un po' più pesante, quello che potete fare è vedervi Dalmachi. Perché secondo me la visione di quest'opera ti lascia con un senso di spensieratezza e riesce anche ad intrattenerti abbastanza. Soprattutto se siete dei giocatori di RPG o MMORPG. Perché il mondo di quest'anime è praticamente simile ai tipi di giochi che vi ho menzionato precedentemente. Dato che ci sono i player, chiamiamoli così, che saranno gli avventurieri, che potranno entrare nei cosiddetti dungeon dove potranno trovare oggetti rari ed expare. Esattamente. Queste persone possono salire di livello ed ottenere anche diverse abilità. Naturalmente può salire di livello solo chi fa parte di una famiglia. Dato che la divinità di quest'ultima farà sì che il suo figlio, tra virgolette, possa aumentare le sue statistiche. Io penso che Dalmachi abbia la giusta atmosfera che ti fa pensare perfettamente ad un mondo fantasy medievale. E le muschie che hanno inserito si fondono perfettamente con l'ambiente mostrato. Le mie parti preferite sono quelle che ci mostrano gli avventurieri nelle locande, che si riposano, mangiano, bevono e festeggiano, unito ovviamente alle host. E rendono il tutto perfetto. I personaggi inoltre sono molto interessanti e alcuni plot twist non te li aspetti. Che dire di più? Seguite il mio consiglio e non ve ne pettirete. Soprattutto lo troverete doppiato in italiano su Prime Video, ma anche subita per i più pignoli. La Moon, che dire di questa fantastica serie animata? Penso che all'interno di essa possiamo trovarci davvero tutto. Tra gag, amori, soprannaturale, alieni e che più ne ha più ne metta. Sono sicuro che chi ha la mia stessa età conosca bene quest'opera. Ma per i più piccoli, beh, vi consiglio di vederla. Soprattutto ora che è uscito il remake, che è addirittura doppiato in italiano. Questa nuova versione dell'anima è stupenda, perché accentua particolarmente i colori, rendendoli sgargianti ed appariscenti. E le host che sentiamo ricordano, e non poco, la vecchia serie. Quindi i feels non mancano. Poi le avventure dello sfortunato Ataru sono strapiene di divertimento e cose allucinanti. Un Don Giovanni come lui dovrà fare i conti con la sua futura moglie, ossia la Mu. Che diventerà tale grazie ad una strana e movimentata gara, che porterà il povero Ataru a vincere salvando così la terra. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Poi i personaggi che vengono inseriti man mano nella serie sono perfettamente caratterizzati, ed ognuno ha le proprie ideologie, che vanno sempre a cozzare con quelle del protagonista. Starei ore a parlarvi di la Mu, ma ora sta a voi decidere se vederlo oppure no. Vi dico anche che le due opening sono super orecchiabili, e la prima mi ha totalmente rapito. Che dire, vi auguro una buona visione. Vi piacciono i supereroi e siete stufi di vedere solo la parte buonista e sempliciotta di questo straordinario mondo? Bene, Invincible fa caso vostro, proprio perché in questo mondo esistono i supereroi e quindi anche i super cattivi. E lo scontro tra le due fazioni è inevitabile. Ma dove sta il bello di questa serie animata? Io credo che sta nella crudeltà di molte scene che fanno vedere perfettamente quanti danni possano creare i poteri dei super buoni e cattivi. Non è vero che riescono a salvare tutti, e lo vediamo. Vediamo la morte dei civili come se niente fosse, e la parte splatter è fatta strabene, mostrandoci la cruda verità. Cioè, se i supereroi fossero veri e i loro scontri con i cattivi fossero così intensi, che fine farebbe la povera gente in difesa? Ecco qui che Invincible ti dà la risposta a questo quesito. Nonostante sia a tutti gli effetti un prodotto di fantasia, ma ti fa pensare e non poco, tipo come è successo dopo aver visto The Boys. Di Invincible mi piace lo stile di disegno ed animazione che hanno usato, molto semplice e minimal. A volte sembra che sia uno di quei giochini 2D super brutti, ma quando iniziano a mostrarci le scene d'azione e di combattimenti, cavolo se sono fatte bene. Non voglio andare troppo nei dettagli perché vorrei fare un video dedicato interamente a quest'anime, e vorrei farlo uscire prima dell'uscita della seconda stagione. Naturalmente serie animata super consigliata, quando mi chiedono quali sono i tuoi anime preferiti, uno di quei pochi che mi vengono in mente è sicuramente Fullmetal Alchemist Brotherhood. Perché non solo è fatto strabene, ma segue anche fedelmente il manga, ovviamente adattando al meglio le varie scene che possiamo trovare nell'omonimo manga. Ma anche perché la storia di Fullmetal Alchemist è assurda, per il momento è una delle mie storie manga ed anime preferite, e secondo me deve essere almeno vista una volta nella vita da tutti. È un capolavoro che non può essere saltato. Dite che sto esagerando? Io penso di no, perché appena lo vedrete capirete ciò che sto dicendo. Ma poi i personaggi che troviamo all'interno di quest'opera sono fatti così bene che possono tranquillamente permettersi di crearsi un manga a parte tutto loro. Brotherhood a livello di disegni ed animazioni è al top, non c'è una sbavatura, o almeno io personalmente non l'ho notata. Riesci a farti rimanere imbambolato e ti chiedi ogni volta che finisci un episodio cosa succederà in quello successivo. Vi avverto, può creare dipendenza. Andate a vedere Fullmetal Alchemist Brotherhood, e se l'avete già visto andate a rivederlo, lo trovate anche doppiato in italiano su Prime Video. Gli anime che portano sullo schermo una trasposizione dei giochi online stanno diventando sempre più mainstream, e devo dire la verità, sono quasi tutti interessanti. Ed è proprio uno di essi che vorrei consigliarvi, e sto parlando di Overlord, dove l'inizio è particolarmente strano. Infatti un player rimane all'interno del suo gioco preferito, impersonando il suo personaggio, fino alla sua chiusura. Ma invece di essere cacciato dal gioco, non succede nulla, rimane lì, e i personaggi non giocanti, i cosiddetti NPC, prendono vita. Nel senso che iniziano a diventare personaggi viventi, e il luogo in cui si trovava si sposta in un mondo a lui sconosciuto. E ovviamente l'opzione per uscire dal gioco scompare, facendo sì che il ragazzo rimanesse bloccato all'interno di quello strambo e fantasioso mondo, impersonando ovviamente il suo personaggio, che ha creato per quel gioco. Ed il protagonista, per riuscire a trovare altri giocatori che hanno fatto la sua stessa fine, cambia il suo nome, nel nome della sua gilda, che sarebbe Ainz All Gone. Non so pronunciarlo, chiedo Venia se l'ho sbagliato. E stando a ciò, Ainz, insieme ai suoi fedeli servitori, andranno a scoprire il mondo che si è creato attorno a loro. Il tutto per scoprire se c'è qualcuno come lui, e se c'è un modo per tornare nel mondo reale. Diciamo che la trama è interessante ed è il solito Isekai, ma che riesce comunque a piacerti se ti piacciono quei giochi in particolare. I disegni sono fatti bene, e le animazioni non sono da meno. Diciamo inoltre che Ainz è una specie di Saitama di One Punch Man di quel mondo, voi capirete il perché. Inoltre è anche doppiato in italiano, quindi dategli un'opportunità. Ed anche questo video sui consigli anime è giunto a termine. Mi raccomando, non prendetevela se manca qualche anime. Lo so, potevo consigliare anche Hunter x Hunter, Attack on Titan o La Legenda di Vox Machina. Ma avevo voglia di consigliare questi 5 anime, quindi fatemi ovviamente sapere se li avete visti e cosa ne pensate al riguardo. E se così non fosse, vedeteli e fatemi sapere se vi ho consigliato bene. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati con i nuovi video che usciranno. E noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.